è solo un metro se vuoi dietro vieni, vieni, vieni è la tua questa? si, è il fletto va beh, è il fletto, è il fletto, è il fletto vai, aspetta vieni, vieni, vieni staviamo un po' no, vieni, vieni, vieni è ancora un metro vieni, vieni oh, bravo vai, è un metro ancora però adesso se gli diamo una pulita lì dove posa la pancia magari gli siamo a pulita vieni, vieni, vieni scaviamo un po'? no, vai, è vieni, vieni, vieni è ancora un metro vieni, vieni oh, oh è un metro ancora aspetta, ti spingiamo indietro aspetta il sole dai, mettila retropiano aspetta, ti spingiamo indietro aspetta, ti spingiamo indietro no, filma solada per favore si, vieni vai, bolide vai Siberia aspetta, ti spingiamo indietro porco, è un dato sciamanin aspetta, manca ancora uno ah, c'è ancora uno sì, ma se non vanno avanti qua li va nel culo andate eeeh, da vedere boh, possiamo salire? mostro bravo Gianluca, ora che proviamo a togliere il culo del Niva eh andiamo a separare il Niva guarda lo hai tu? lo hai fatto lo hai fatto come l'ho? tu? 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 ah, sta tirando indietro diciamo perché è indietro non l'ho visto prendi vai vai dai dai vai qua, se non sei nel posto vai un po' avanti si, con le po' avanti che è una tira indietro prendi Sì, sì, sì. Grazie a tutti.